3 giorni fa a un certo punto dopo la curva io trovai di fronte a me una gran mucca che tranquilla attraversava proprio nel mentre che passavo per di là frena spanda suona e sterza e ci ho messo anche la terza ma la mucca se ne stava proprio in mezzo che è successo il padarrà la mia macchina sfasciata una mucca rovinata per finire la frittata il contadino vide tutto ed arrivo ma sei arrivata dalla destra o sei arrivata alla sinistra? io arrivavo dalla strada c'era la rotatoria rotatoria sono arrivata e boom! bianco la rotatoria rotatoria diceva lui io voglio i danni ma chi le ha dato la patente per guidare ma guardi che la sua mucca su questa strada non poteva circolare lui disse che avevo torto e chiaramente mi spiegò pure il perché la sua mucca proveniva dalla destra secondo lui il torto rimaneva a me frena spanda suona e sterza e ci ho messo anche la terza ma la mucca se ne stava proprio in mezzo che è successo il padarrà la mia macchina scassata una mucca rovinata mamma mia che terribile giornata proprio da dimenticare povera mucca rovinata povera mucca te l'ho detto dal mia precedenza io arrivavo praticamente di lì la rotatoria bianco bravi signore grazie bravi ciao grazie 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 grazie